Violenza sulle donne, sensibilmente aumentato il numero degli ammonimenti emessi dal questore di Treviso Maurizio Dallemura nell'ultimo anno, dai 3 del 2017 ai 9 del 2018 i provvedimenti per episodi di violenza domestica, li evitati da 11 a 18 quelli invece per atti persecutori. Gli ammonimenti sia per la violenza domestica che per atti persecutori sono aumentati tra il 2017 e il 2018, ma questo non è un fatto negativo, è che la gente, in questo caso le persone vittime di questo tipo di abusi e violenze, sta acquistando maggior fiducia e quindi denuncia di più gli episodi che li vedono coinvolti e ci permettono di poter emettere i provvedimenti che ad oggi, almeno a Treviso, una volta sanzionate le persone, non hanno visto casi di recidiva e questo lo consideriamo un altro successo. Questo è un dato molto significativo e tranquillizzante per le donne che accedono al centro antiviolenza in quanto loro hanno spesso molta paura, cioè il freno principale è la paura, paura di ritorsioni nel momento in cui viene fatta la denuncia, la segnalazione e paura di perdere i figli e tutte le difficoltà che le donne hanno. Dato emerso nel corso della presentazione delle iniziative messe in campo dalla Polizia in collaborazione proprio con Telefono Rosa e Comune di Treviso in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne il 25 novembre. Venerdì 23, nell'ambito del progetto Questo non è amore, il camper della Polizia sarà in piazzetta Aldo Moro per dare informazioni e far sentire alle donne che una via d'uscita c'è. Il grosso del lavoro sta nell'intercettare le vittime di violenza, spesso mogli o compagne di uomini istruiti, benestanti, al di sopra di ogni sospetto. E questa è anche un po' a volte la difficoltà per la quale le donne non denunciano, e cioè chi mi crederà se è un uomo così di successo, un uomo che ha una facciata sociale così positiva, non mi credere neanche mia madre, quindi questa è un po' la difficoltà.